Pace, è questo lo slogan di quasi 650 bambini della scuola ICS Umberto I San Nicola a Barivecchia che hanno organizzato davanti alla Basilica di San Nicola un giro tondo per invocare la fine della guerra tra Russia e Ucraina. Grembiulini, mani strette l'una all'altra e un unico grido, pace, una manifestazione che dentro di sé ha tutti i colori della speranza dei più piccoli, l'arma più grande, quella del sorriso e del gioco, è una risposta chiara alla guerra. Non ci sono discorsi, comizi, c'è un modo che noi riteniamo più consono alla mentalità dei bambini che è quello del gioco, del canto, del divertimento, che potrebbero sembrare concetti un po' contrastanti con la violenza, con il richiamo conflittuale della guerra. Però anche il gioco può essere un confronto, per esempio, tra avversari che poi trovano comunque il modo di fare pace tra loro. Tutti quanti noi abbiamo fatto esperienze nell'infanzia di giochi anche un po' così aggressivi, però questo non ci ha reso delle persone violente. Cerchiamo di portare un certo tipo di discorso, che poi è la missione che la Costituzione affida alle istituzioni scolastiche, che è appunto quello del rifiuto della guerra come metodo, come mezzo per risolvere i conflitti tra le persone e tra gli stati. Grazie.